Giuseppe M. Barmas, c'è sempre grande attesa alla Fiera di Sant'Osso per conoscere quale opera porterà, quest'anno un'opera nuova, cosa la presenta? Ma quest'anno ho rappresentato un angelo, l'arcangelo Raffaele, fatta in castagno. Quante ore ci ha messo per finire l'opera? È una domanda un po' critica perché sono dei pezzi molto lunghi da fare. Io inizio, l'imposto, poi magari smetto, vado avanti su cose diverse. Il tempo di realizzare una scultura è molto, molto vario. Io preparo la Fiera durante l'arco dell'anno, però non conto mai il tempo, non guardo mai quante giornate ci metto, guai, altrimenti non si farebbero. E quali sono le attese per la sedizione del 2024 per la Fiera? L'attesa per la Fiera è sempre una cosa particolare. Sperare che i pezzi piacciano, che le sculture piacciano e che ci sia un riscontro. Invece per quanto riguarda l'opera in sé, perché è proprio la decisione di realizzare l'arcangelo quest'anno? Diciamo che questa scultura qua è nata in un momento un po' particolare della mia vita, è nata con una richiesta e con la massima libertà di interpretazione e a me è venuta così. Grazie. Grazie.